Azzurra, rosa e celeste. Il futuro delle bimbe nate a Piacenza nell'ultimo anno, almeno guardando i nomi scelti dai genitori, è più colorato che mai. C'è stata un po' una ripresa, un recupero dei nomi diciamo antichi, dei nomi a volte anche dei nomi delle nonne, soprattutto nelle bimbe. Abbiamo Costanza, abbiamo Virginia, abbiamo rosa, Margherita, abbiamo celeste, abbiamo azzurra. E invece per i maschi? Per i maschietti abbiamo un laerte, abbiamo una scagno, abbiamo avuto anche un leone nel 2016, al quale facciamo tanti auguri di essere un leone nella vita. Il futuro non è rosa solo nei nomi ma anche nei dati. Piacenza chiude infatti l'anno in controtendenza. Mentre in altri ospedali delle province vicine le nascite sono in calo e le culle vuote, nella nostra città si registra un trend in aumento. Più di 1800 nati nell'ultimo anno, il 40% dei quali ha mamma e papà stranieri. Un anno di grande soddisfazione per tutto il reparto, siamo veramente molto soddisfatti della 2016 che sta ormai per finire. Ad oggi il numero dei parti sono 1790 con 1805 nati, quindi almeno una decina in più rispetto all'anno scorso. La percentuale degli straniere è di circa il 42-43%, una percentuale che è in leggero calo rispetto all'anno scorso perché abbiamo avuto un recupero delle nascite nell'italiana. Cresce l'età media delle mamme, diciamo che adesso l'età media del primo parto si è posticipata, l'età media è oltre 30-35 anni. Invece per il nostro corpo l'età media quale dovrebbe essere? Ma diciamo che non c'è un'età media, è chiaro che passando il tempo ci si avvicina sempre di più allo scadere del nostro orologio biologico e quindi possono appunto verificarsi, manifestarsi delle criticità, delle problematiche legate proprio al tempo che passa.